good morning si qui praticamente sono diciamo a mezzogiorno quindi c'è pomeriggio potremmo dire mister master maestro o semplicemente o semplicemente david si david perché non david avid a lynch it's a june 11 tuta somente atti seconda e sottosote eri neblis a un clear morning is moment right still now ed is you in fortify and 328 centis and this means that is that day really 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 soft like in this days and this period and also where because it seems more a summer climate this being limit as e d'altra parte stiamo andando verso l'estate manca poco quindi questo è anche una casa riguarda i video to set in che fa due it bat ancora quello di chiede a caricare quindi fa due it comunque sarà quello che lo postici però penso a domani quello di oggi ma comunque se siete interessati in generale ed è a rovesse parete fondi suai come ho detto questi giorni comunque essendoci esposto a roller screen roller shooter post la terra non con questione di caldo si può vedere nulla ma forse come ripeto si può vedere qualcosa from the sunglasses so as you can see from the sunglasses I think that is a federnume temperature come tutta l'estate sempre così quasi sicuramente salirà ma ovviamente non siamo mai di mangi su questo vedremo but the real important thing with this atmosphere is that today we have today we have those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful blue skies and golden sunshine and I think all along the way ovviamente all along the way qui sempre meno rispetto a voi intendo gli amici americani come sapete abbiamo un orario completamente diverso bene così speriamo di continuare con questo trend anche domani per cui said this so from the mythical window with the orange red the blue ring water curtain behind me in this days of most of the summer and it's green green roller shooter here we in this days in quasi tutta l'estate and finally from a mythical keyboard amatic x 640 ipc ipg ipg 625 evo grazie dei mold people follow the channel the reward si un saluto davvero da tutti and also io più le great breakfast io la farò tra poco il mio stomaco pronto come sempre non so se lo sentite lo so un po' tardi ma non la riesco comunque a fare adesso però soprattutto vi possiate consolare anche voi la vostra bella colazione se il tempo deve essere brutto dalle vostre parti non che non ci consoliamo sempre anzi ma dal resto d'altra parte la curiosità che le due parole consolazione e colazione se pronunciate in italiano in italiano fanno anche rima ma io personalmente quando il tempo è brutto mi consola ancora di più I'll see you in the video to see if I do it for tomorrow